... Insieme ad Andrea e insieme agli altri amici abbiamo pensato di fare una manifestazione che unisse il calcio, lo sport, i giovani e anche la politica e anche le iniziative del sociale che noi portiamo avanti. E' proprio per questo che io ho voluto fare questa manifestazione sportiva e creare questo primo appuntamento sportivo di Grande Sud perché come in tutti i settori sociali, anche il calcio, anche lo sport, è un settore che crea tanto interesse, tanto sviluppo e soprattutto porta avanti dei valori importantissimi della nostra società. Grazie Andrea Riccardo per aver organizzato questo evento. Noi pensiamo di fare da questo torneo e dalle selezioni che si faranno appreste una sorta di nazionale perché intendiamo aprire anche qui una sfida alla Lega Nord a fare sia a calcio 1 sia a calcio 8 perché noi siamo un nuovo partito del sud, siamo nati adesso e intendiamo andare avanti e quindi costruire una sorta di Lega Sud. Quindi anche per quanto riguarda il calcio, siccome non è che vogliamo ammazzarli a piedi della Lega Nord, qualche volta sono merito da pure di fare, però sfidarli su certi campi è importante. Io ho bisogno che i giovani si interessino di nuovo alla politica perché per cambiare veramente le cose non c'è bisogno di aspettare il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, ma le cose le dobbiamo cambiare, noi sui nostri territori impegnandoci tutti i giorni. Grazie di nuovo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.